Grazie, ragazzi, grazie. Vai, 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 tieni il ritmo, vai con le mani, vai. Vai, 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 vai. Perché dopo c'era questa. E quindi stasera c'è questa. I signori della morte hanno detto sì, l'albero più bello è stato abbattuto. I signori della morte non vogliono capire, non si uccide la vita, la memoria resta. Per questo l'albero cadendo ha sparso i suoi semi e in ogni angolo del mondo nasceranno foreste. Salvare le foreste vuol di salvare l'uomo perché l'uomo non può vivere. Tra acciai e cimento non ci sarà mai pace. Ma è vero amore, finché l'uomo non imparerà a rispezzare la vita. Per questo l'albero abbattuto, non è caduto in mano. Cresceranno foreste, è una nuova vita dell'uomo. A lunga sarà la strada e tanti gli alberi abbattuti. Prima che l'idea trionfi, senza che nessuno muoia. Forse un giorno uomo e foreste, vivranno insieme. Speriamo che quel giorno ci siano ancora. Se quel giorno arriverà, ricordati di un amico, morto per l'Indio, se la foresta, ricordati di Cico. Se quel giorno arriverà, ricordati di un amico, morto per l'Indio, se la foresta, ricordati di Cico. Wow! 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 La, 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 la Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie.